Poi siamo in due al governo e non è che siamo da soli, siamo in due al governo, Lega e 5 Stelle, perché da solo non sarei riuscito a fare nulla e quindi devo dire che ho trovato dei compagni di viaggio rispettosi, coerenti e leali. Da soli non si fa mai nulla e quindi è la squadra che ho trovato. I Luigi Di Maio, persona corretta, provano a farci litigare tutti i giorni e non ci riescono, provano a dirmi che adesso la Lega è il primo partito, se fai saltare tutto, chissà quanti parlamentari eleggi in più, io rispondo che ho dato la mia parola e la mia parola vale più dei sondaggi. La mia parola vale più dei parlamentari e di tutto il resto, quindi io non cambio idea. Certo, abbiamo due idee di futuro diverse, anche due idee di Sardegna diverse, qua c'è bisogno di metano, c'è bisogno di energia. Non si può dire no, 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 no al petrolio, no al metano, no al carbone, no al nucleare, no al gas, no, altrimenti ci scaldiamo con i legnetti, ma non si può neanche più scaldarsi con i legnetti.